un saluto a tutti i signori e come sempre ovviamente anche oggi benvenuti o nel vostro caso più ossidui bentornati ma sempre qui sul canale omo tenaci anime in compagnia di simone e non si vede in realtà solamente alcune cime alcune vette più alte al momento compaiono della ripresa ma qui davanti c'è una piccola muraglia di action figure questo perché è un video un piccolo recap recap che di solito faccio prima del periodo estivo in cui vi do qualche qualche piccola spunta ecco su quello che sarà il periodo poi che va da settembre in avanti al momento sul canale se andate a vedere sono già pianificati dei video per il mese di luglio di agosto e se la memoria non mi inganna anche a settembre oltre a quelli ci sono in questo momento giga più giga meno 34 35 giga di file grezzi raw che devono essere ancora lavorati di ulteriori figure e poi comincia la parte che da settembre ottobre ci traghetterà fino all'anno 21 qui ho alcune cose che usciranno che quindi voglio farvi vedere adesso ovviamente in anteprima ma sempre dopo la colture del youtuber quindi scrivetevi like condividete social attivate la campanella per stare sempre sincronizzati solo in mia uscita ricordo è completamente gratuito e non costa assolutamente niente e quindi tornando a bomba sul momento focale di questo di questo mio video diciamo che da settembre dovremmo avere come unboxing comincerò a farli prima ma poi verranno pubblicati ovviamente con i tempi dovuti abbiamo la figma che per chi di voi mi segue è già mi è arrivata al mese di maggio mi sembra che era il 4 il 5 maggio eris figma 566 l'ho aspettata veramente per moltissimo tempo prenotata il 4 maggio dell'anno scorso arrivata quest'anno molto interessante molto bella questa me la voglio godere in piena tranquillità poi abbiamo una figure una price presa nel mio ultimo viaggio a tokyo l'elfa di isekai o jisan lo zio che tutti quanti vorremmo ma che per motivi avulsi dalla realtà non possiamo avere o anche l'elfa ovviamente vorremmo ma sempre anche la non possiamo avere una price della siga molto carina fatta bene sulla quale avremo sicuramente da discutere perché qui si va dalle stelle alle stalle come prezzi dai 2400 yen questo scontato era 2160 fino ai 15 20 mila yen per il modello più prezzolato che secondo me in realtà il gioco non vale la candela mettiamo da parte poi la bionditudine di mukuro l'abbiamo qua della linea coreful ovviamente data live una mukuro molto carina in open ed prezzo ridicolo 980 yen anche questa qua comprata nel mio viaggio di tokyo questa è ancora completamente chiusa e intonsa quindi in realtà qualcosa dentro c'è ma non ho ancora accertato che sia un action figure sicuramente un ottimo un ottimo prezzo passiamo poi per quanto l'anime ripeto a me non è piaciuto ma come vi ho detto alcune volte compro anche action figure per reminder per ricordarmi da qui è l'anzianità che praticamente per me è dietro l'angolo alla semilità di quando vedi un anime poi per discutere se mi piacque o meno chainsaw man non l'ho apprezzato ma fra tutti i personaggi quello che secondo me è più puro più genuino e forse meno stereotipato è power che tra l'altro sta avendo un grandissimo successo indie per cui action figure chainsaw man power la vedete direttamente qua davanti della linea taito non una core full una taito proprio low 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 budget super entry level però sicuramente anch'essa molto 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 carina giusto per ripeto per ricordare se non si vuole spendere tanto questa va benissimo stessa cosa apprezzo l'anime ma il personaggio ecco non ne comprerei una figura alto splendente una spm super premium model ovviamente della siga la nostra uzaki la vedete qua sugoi dekai figure che era stata preannunciata circa un annetto e mezzo fa ne sono uscite delle altre ovviamente a prezzi completamente diversi da questo licenziata vedete qua c'è il bollino di garanzia della kadokawa quindi anche questa originale presa a tokyo pagata veramente veramente poco quindi un action figure carina giusto per fare quello che deve fare poi della linea della siga nanakza nazuna ossia la nostra nazunina della serie luminasta call of the night questa è la seconda nazuna la prima dovreste già averla vista sta sul canale al momento nelle mie mensole sta là in alto dove sto indicando ma il video dovrei già averlo fatto e questa va a completare il binomio sono entrambe delle price della sigla della sigla scusate comprate tutte e due credo che migliore sia l'altra questa forse il viso non mi convince moltissimo però la posa devo dire che è esattamente la sua quindi stessa cosa se non volete prendere la kotobuki e quindi spendere che tra l'altro è già quasi introvabile una barca di soldi questa sicuramente fa il costo vostro comunque con mi sembra che sia sul suolo nativo italiano 35 euro la trovate e poi andando su pezzi un po' più altospendenti mi deciderò finalmente ad unboxarla ringwell di tales of a rise siamo ovviamente su tutt'altro genere tutt'altri pezzi ringwell della nostra teso ovviamente della kotobukiya tales of a rise videogioco l'ho portato sul canale se siete con sapete di cosa stiamo parlando vi dovrei lasciare il link direttamente a refl qua sopra per vedere tutto il videogame compreso dall'inizio compreso l'endgame la parte finale una kotobukiya tokyo beh qui ecco rispetto nulla togliere a mukuro nulla togliere a una power però ecco insomma due pesi due misure sono due cose completamente diverse questa mi piaceva il personaggio mi piacque molto il gioco ero affezionato e quindi la comprai questa invece la power ripeto è più solamente per ricordo quindi come vedete di materiale signori ce n'è ce n'è veramente tanto indicativamente una o due uscite mensili da settembre in avanti io ve li rinnovo la call to action vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e se conoscete qualcuno che ama il mondo dell'action figure vuole vedere degli unboxing fatti bene con grano salis fatti col metodo migliore con la strumentazione migliore che qualcuno si può permettere ecco allora veicolatelo tranquillamente qua sul canale omotenashi anime e ricordatevi il codice sconto omotenashi 5 per avere il 5 per cento su ogni figure che comprate in italia ovviamente da michele di akiba merce grazie ancora a voi un saluto voi vostri cari da simone di omotenashi anime buona giornata alla prossima già ne bye bye grazie